Signori, bentornati in un nuovo video flash. Successo totale! Il Game Found di Keyforge ha raggiunto anche l'ultimo traguardo fissato dalla Galaxy, toccando e superando quota 750.000 dollari. Ciò sta a significare che, dopo l'apertura della localizzazione in Europa, Portogallo escluso, toccherà anche ai forgiatori asiatici ricevere gli unici nelle loro lingue, portoghesi inclusi. E così, dopo aver annunciato l'arrivo degli Unchained in un articolo precedente, che rispettivamente avranno un costo di 16,99 dollari per il mazzo singolo e 155,88 dollari per il box da 12 deck, anche l'ultima pietra miliare è stata ottenuta, conferendo alla raccolta fondi del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo il titolo di crowdfunding di successo. Ora, personalmente, mi aspetto un ringraziamento speciale da parte della Ghost, dato che l'aspetto «vediamo se il gioco è supportato dalla community» è andato più che in porto, magari attraverso un piccolo pensiero da integrare nei pacchetti di tutti coloro che hanno partecipato alla campagna, che, ricordiamolo, scadrà tra tre giorni, il 26 settembre. Quindi affrettatevi, siamo praticamente alle battute finali. Qualsiasi cosa comunque decideranno di fare dalla casa madre, un forte ringraziamento va ad ogni membro della community a livello mondiale per aver sostenuto il rilancio del gioco così fortemente. Grazie davvero di cuore dal crogiolo. Per ogni aggiornamento riguardante i ringraziamenti speciali, tenete d'occhio le pubblicazioni che arriveranno sul canale, dato che è già pronto un video flash all'occorrenza, dove tratteremo anche questo eventuale aspetto della raccolta fondi. E voi, siete o meno soddisfatti di come sia andata questa campagna per il rilancio di Keyforge? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Inoltre, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.